Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Con il raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!